Armati di pinze e sacchetti, volontari di Lega Ambiente e alcuni studenti hanno ripulito il parco di Lama Balice alle porte di Bari. Insieme a loro, nei parchi di tutta Italia, centinaia di persone sono scese in campo, o meglio nel parco, per unirsi all'evento nazionale organizzato dall'Associazione Ambientalista. Questa in realtà è una strada che rientra addirittura nella via Francigena e molto spesso qua abbiamo incrociato dei turisti pellegrini che percorrono questa strada. Per nonostante tutto qui vengono abbandonati rifiuti sia urbani che addirittura speciali provenienti da attività e a distanza di quattro mesi ritorniamo su questo luogo proprio per pulire i bordi di queste strade. Oggi siamo qui perché non solo come parco ma anche come società civile dobbiamo lottare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Ovviamente questo fenomeno in area parco è ancora più grave e quindi siamo qui per dare un segnale a tutta la cittadinanza. Le attività sono finalizzate a ripulire dei rifiuti in numerose aree degradate dell'area protetta e a lanciare a chi deturpa un forte messaggio di attenzione per la tutela e la cura del territorio. I volontari, tanti ragazzi qui a Lama Balice per ricordare insieme che oggi è la giornata di Puliamo il Mondo. Il Lega Ambiente come ogni anno insieme anche all'amministrazione comunale non fa mancare il proprio impegno per sensibilizzare i cittadini anche a non abbandonare nelle strade di campagna dei rifiuti che poi restano lì per parecchio tempo, che è difficile anche intercettare perché i veri cambiamenti partono dal senso civico dei cittadini.